Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Allora scusate intanto se mi vedete un po' con la faccia un po' così sudata, però ho appena finito di allenarmi e volevo registrarvi il video dei prodotti finiti, così finalmente butto via tutta sta roba. Allora, che dovete sapere che a me dopo un po' a vedere tutti i prodotti finiti lì mi viene una voglia di buttarli proprio il prima possibile, non so come mai è una cosa mia, però non vedo l'ora, anche se mi manca tanto così da un prodotto non vedo l'ora di finirlo il prima possibile perché lo devo buttare proprio, non ce la faccio proprio a tenerlo. E niente, ci sono un po' di prodottini, quindi iniziamo. Allora, abbiamo finito tre confezioni di veline, queste qui della Foxy Cotton, ci siamo trovati comunque bene. Sono 90 veline, tre veli, ultra soft, infatti sono morbidissime, vi giuro sono veramente morbide. Sono quasi le migliori, se la battono queste, quelle di carta calla, veramente veramente validi. Noi le prendiamo in offerta, 90 centesimi, 99, comunque valide, ve le consigliamo, insomma queste tre pacchettine, abbiamo un altro in uso e poi dobbiamo andare a fare scorta perché comunque queste qui le abbiamo prese ancora a ottobre, quindi sì, inizio a ottobre, ci hanno fatto due mesi, due mesi sì, perché ci hanno fatto tutto ottobre, tutto novembre, ne abbiamo un altro ancora, quindi due mesi e qualcosina. Poi, ho finito, questa qui viace gentile, la candeggina delicata, questa qui è quella da un litro, igienizza e smacchia, candeggina per colorati con ossigeno attivo, veramente valida. Allora, io quando uso questa noto veramente la differenza nei vestiti, non hanno dei cattivi odori, comunque non sono duri, non so spiegarvi, ma questa qua me li lascia più morbidi. Io metto sempre le stesse dosi di ammorbidente, ho ancora il coccolino in uso, quello piccolino concentrato e vi devo dire che è buonissimo, però vabbè, quello lì ci avrò altri due o tre lavaggi e poi è finito, però torniamo a noi, comunque ve la straconsiglio, questa qui vi lascia i cappi comunque veramente morbidi, sentite la differenza quando l'andate ad usare, non lascia cattivi odori nemmeno in lavatrice, quindi io questa qui la andrò a ricomprare perché adesso non è proprio più nelle scorte e ottima, ottima, presa comunque da Tiotà. Poi, vediamo il passiamo, finito, scusate ho rovinato un po', però il V5, detersivo piatti pulito profondo a limone, 5 litri, questo qua è quello della Lidl, buono, sono trovata bene, comunque costa poco, costa tipo un euro, credo, lava bene, sgrassa e mi trovo bene, insomma è bello densino, ne basta poco per quello che costi, mi sono sempre trovata bene, quindi anche questo ve lo consiglio, lo trovate da Lidl. Poi, finito lo scottex della Cattica, quello in edizione di Nightmare Before Christmas, non credo che riusciate a vedere, comunque ho un figuratore di questo, poi, 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 finito. Allora, finora tutti top, passiamo a Mega Flop, che è l'ettergente per il viso di Avon, Ultra Effects, Radiance Micellar Gel Cleanser, con melagrana e estratto di papaya per tutti i tipi di pelle, sono 195 ml, allora, lo vedete finito, perché l'ho usato un paio di volte, ma veramente, ragazze, pessimo, mi tirava la pelle in una maniera assurda, mamma mia, e poi mi bruciava, tipo, nel contorno occhi, la cosa più fastidiosa è che tirava, tirava veramente, veramente tanto, anche se prima andavo ad utilizzare un burro struccante, dopo mi tirava comunque veramente tantissimo questa, quindi per le pelli secche, non ho d'immaginare, per tutti i tipi di pelle, non credo proprio, e alla fine non sapevo quando andavo a trovare mia madre, quindi l'ho messo nel sapone per le mani. L'ho diluito un po' così, quindi lo finirò in quel modo lì, ma l'ho usato un paio di volte, vi giuro, mi sono trovata veramente, veramente male, mai più nella vita, questo ve lo sconsiglio, anche perché costicchia comunque sui 5, o 5-7 euro, non mi ricordo, però pessimo, proprio da buttare il prima possibile. Comunque io per non sprecarlo, l'ho messo nel sapone mani, tanto abbiamo sia quello liquido che quello solido. Poi, finita l'acqua a micellare, detergente, struccante a micellare a lime di Vagheggi, pessimo, vi giuro, pessimo, pessimo, pessimo. Non strucca niente, non rimuove, io non uso makeup waterproof, non rimuove nemmeno il classico mascara, non rimuove il correttore, la cipria, non so che cos'è questa cosa qui, ma ve la sconsiglio anche perché costa, e no, pessima. Poi, ho finito, a fatica, il Nuxe, l'olio struccante della Nuxe, vi ho detto, forse perché ce l'avevo aperto da troppo, iniziava a sapere troppo di rancido, e mi appannava agli occhi, mi sentivo proprio un fastidio alla pelle quando lo andavo ad utilizzare, gli ho proprio dato le ultime botte di vita, e poi basta. Non so se lo ricomprerò, non lo so, perché all'inizio comunque, adesso ragazzi, dirvi il vero, non è che mi ricordo tantissimo come mi sono trovata, però comunque, non è neanche che ce l'ho aperto da tanto, eh, quanto sarà, non mi ricordo, adesso mi giuro c'ho un vuoto di memoria, andate a vedere i top e flop, che forse lì vi ho parlato meglio di questo prodotto, però adesso qui l'ho finito comunque, non so se lo andrò a ricomprare, poi, finché mi ricordo è finito questo oglietto qui per le cuticole di Passione Unghie, questo qui è quello alla vaniglia, sono 15 ml, non è che mi andava ad idratare tantissimo, a dirvi il vero, perché comunque, dopo che l'utilizzavo, il mattino dopo mi ritrovavo sempre le pellicine alzate, le cuticole sempre più secche, non è naturale, perché al primo posto comunque c'è la paraffina, non vado a demonizzare questo ingrediente, però comunque, va a fare una pellicola, non è che ti va a idratare o comunque ti va a rigenerare le cuticole, non lo so, non mi ha dato tantissime vibes positive, insomma, comunque è finito anche questo, finita la maschera per il viso di Glam Up Refreshing Green Tea, questa qui, al tè verde, buone, vi ho fatto il video, le prendo su Amazon, insomma, buone, poi, finito lo shampoo dell'anticherboristeria alla camomilla, 250 ml, buono, 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 l'odore, allora, la consistenza è super, super densa, quindi quando lo versate dovete essere attenti perché premete un attimo il flacconcino, invece, proprio, non lo so, una quantità enorme di shampoo, perché veramente, cioè, fate un po' fatica e poi quando premete viene giù tutto di botto questa gelatina proprio densa e che vi potete fare anche due lavaggi, per dirvi, comunque, il shampoo è veramente buono, l'odore, come vi ho detto, è buonissimo, poi vi ne ho parlato tantissimo nei top e flop, quindi andate a riprendervi quel video e niente, buono, ve lo consiglio, soltanto che non so se magari in quest'ultimo periodo ero un po' stressata, con comunque sbalzi climatici di qua e di là e dopo il lavaggio ogni tanto mi avevo il cuoio cappelluto, irritato, mi dava prurito, non so se può essere collegato a questo perché comunque prima mi sono sempre trovata bene, ma negli ultimi lavaggi un po' così così, ma forse secondo me è un po' il periodo che ho, un attimo sotto stress così a lavoro, comunque col, con la stagione così caldo-freddo, secondo me è quello però comunque questo ve lo consiglio, costa veramente poco, poi, 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 finito, andiamo tutto con la cosa di plastica, finita questa Splendor, maschera illuminante, olio splendente, questa qui, è mezzo litro di maschera, donna capelli morbidi e setosi, allora, come maschera io no, piuttosto come balsamo perché è veramente, veramente liquida, il profumo comunque è buono, il profumo è buono, ma è molto molto liquida, la consistenza vi giuro non è di una maschera rinforzante, nutriente, è un balsamo, è proprio acquoso nel senso, quindi come balsamo anche e anche, ma come maschera no, comunque lasciavo i capelli abbastanza morbidi, poi, ho finito il bagno doccia della DAV, Gentle Scrub, ve ne ho già parlato ogni top flop un paio di volte, e, no, diciamo che, collegandoli a tutti gli altri DAV, questo non mi è piaciuto, perché non lasciava una bella schiuma consistente, so che non è la schiuma che l'avevo, comunque mi piace avere un po' la schiumetta questo qua, non mi lasciava una semi-schiuma crema, neanche crema, perché le creme mi piacciono, ma non mi piaceva e poi non scrabbava quasi niente, non rimaneva tantissimo profumo e mi sembrava che, mi sembrava di non lavarmi, vi dico la verità, comunque, questo l'ho acquistato su Amazon e non ve lo consiglio tantissimo. Poi, ho finito, finalmente, il bagno e i vetri di Evertrop, finiti entrambi, io ho fatto la recensione, quindi vi mando tutto al video lì, bagno, sì, vetri, no, in parole brevi, comunque, se volete la recensione più approfondita, c'è il video apposta, e, niente, finiti anche questi due, adesso vedrò se tenere i claconcini, perché comunque sarebbero utilizzabili, e, può buttare le mani, credo che l'iterroba, perché comunque pare, plastica rigida. Poi, finito, questo scrub per i piedi di Avon, che non mi è piaciuto per niente, ha la vitamina E a 75 ml, anche questo vi ho fatto una recensione, quindi vi rimando di nuovo al video, ma non mi è piaciuto. Poi, finito, crema mani di Avon, al cacao, al burro di cacao, non mi è piaciuta neanche questa, comunque, lì c'è il video, ma, no, non mi idratava per niente le mani. Poi, finito, questo dentifricio dalla White Now, Love Forever, Mentadent, allora, ragazzi, questo dentifricio è veramente, veramente valido. Allora, come potete vedere, c'è un po', è blu, dentro vi usciva questa pasta, ok, questo gel, anzi, perché più gel che una pasta, bianco, tipo trasparente, e, quando voi andavate a lavarvi i denti, all'interno, tipo, c'è questo, oddio, io non so proprio spiegare, all'interno, insomma, c'era questa pastina, quest'altro gel, azzurro, tutto glitterato, che, quando andavate a lavarvi i denti, insomma, frizionavate la testina del spazzolino sui denti, e usciva fuori il blu, insomma, alla fine diventava blu, ma vi giuro, ragazze, ci siamo trovati, non bene, benissimo, proprio, ci ho tolto tutte le macchie che avevamo nei denti, li sbiancava veramente, veramente, tanto, ma, cosa più importante, vi giuro, ci ho rimosso tutte le macchioline che avevamo qua nei denti, fantastico, infatti, lo ricompreremo, adesso abbiamo il mentadent Sea Fresh in utilizzo, e poi abbiamo un altro mentadent, un altro mentadent all'argilla, che dobbiamo usare, comunque, prossima volta da Tigota, questo qui lo prendiamo sicuramente, perché è veramente, veramente valido, costicchia, non l'abbiamo trovato in offerta, ma, prendetelo, perché se avete problemi di macchioline nei denti, fumate, bevete, cose così, questo vi aiuta veramente tanto, quindi, questo è un super, super top, non un top, un super top, poi, finito, il Shower Gel, Calm & Unwind, Canfora & Eucalipto, non l'abbiamo usato come sapone mani, niente di che, come vi ho detto, Avon, non credo di ricomprarlo più, perché, per la qualità, quantità, prezzo, non è che mi faccia impazzire, non ne sento più la necessità, comunque, un 50 e 50, come sapone mani, costa troppo per essere un detergente, comunque un bagno doccia, un sapone mani, quello che è, ma, no, non lo riprenderemo più, poi, scusate un attimo che, ok, scusatemi, ma ho spento la luce, quindi non so se è cambiato qualcosa, però non volevo dire, insomma, quella cosa, che se voi ce l'avete a casa, magari accende anche a voi la luce, o spegne anche a voi la luce, cosa vi sta facendo? Allora, abbiamo finito, uno o due, una, credo, due, non favo l'altra, vabbè, se la trovo poi, ve la mostro, come abbiamo finito la saponetta, ancora, di Dav, queste qui, buone, ci troviamo bene, come abbiamo finito questa, poi, su Amazon, non credo di averle, oh sì, non mi ricordo, ho preso le saponette di spona di champagne, di Borotalco, abbiamo finito la saponetta di spona di champagne, sapone perfumato, perle di seta e vaniglia, estetificante, buona come saponetta, dura, anche non si sfracella tutto nel portasapone, bella resistente, è buona, veramente, veramente, buona, poi l'odore è femminile, dolce, ma molto buono, Dav comunque sempre una garanzia, ma anche spona di champagne è buono, poi, finito, 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 lo shampoo, lo shampoo serie expert, omega 6 density advance, questo di L'Oreal, questo ragazze, costicchia, ma è un ottimo ottimo shampoo, veramente, veramente valido, sono 300 ml, mi lasciava i capelli, morbidissimi, ma anche questo, avete un video sui top e flop, è veramente fantastico, cioè, poi mi lasciava questi capelli, nessuno proprio, veramente, veramente, valido, 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 questo qui ve lo consiglio, non mi dava nessun problema di irritazione, non mi dava problemi di prurito, ma vi ho detto, vi lasciava i capelli morbidi, profumati, puliti, non mi andava ad ingrassare la cute, è veramente un shampoo fantastico, adesso, mi deve arrivare, un pacco da, da un erboristeria, che ho preso un altro shampoo, perché, li ho finiti tutti, con quello dell'anticherboristeria, li ho finiti, perché ho solo uno di Garnier, all'acqua di cocco, credo, ma un po' un né, quindi ho fatto subito, non scorta, perché ne ho comprato solo uno, però magari poi vi farò il video, e poi volevo fare un ordine su, bibuticola rosa canina, ma questo si parlerà poi a dicembre, poi, allora, finito, ancora, 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 due confezioni di tè, sirwiston tea, tè rossolampone e vaniglia, e tè bianco con mango e limone, allora, questo ragazze, io non perdo neanche tempo, è un tè, fantastico, l'ho finito, adesso, non so quando andrò ad atigotà, però, non vedo proprio l'ora, perché, questo qui, sapete che è, una cosa pazzesca, per me, la cosa più buona del, del mondo, poi, questo qui, è veramente, veramente, buono, ma ve lo consiglio, appunto, per la stagione autunnale, invernale, primavera e estate, perché è proprio, dolce, vi dà questa sensazione, tipo, natalizia, tè del Natale, tè dell'autunno, con la copertina, cose così, la vaniglia, si sente veramente tanto, il lampone, non è acidulo, ma, vi giuro, è dolce, ma, buono, 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 non è stucchevole, e, vi dà proprio, quella sensazione, di calore, quindi, anche questo, io ve lo consiglio, tantissimo, poi, ho finito, la camomilla, dolce notte, composto di flore, melatonina, senza zucchiere, dell'angelica, molto, molto buona, la ricomprerò, assolutamente, solo per dire, assolutamente, assolutamente, sicuramente, questa qui, è veramente, veramente, buona, per il sonno e il rilassamento, erano 14 bustine, non era troppo, troppo difficile da sciogliere, non era dolce, zuccherata, e, molto, molto valida, veramente buona, contiene melatonina, camomilla, passiflore, e biancospino, vediamo, adatta a diete vegetariane e vegane, naturalmente, privo di lattosio, adatto ai celiaci, veramente, veramente, buona, non so adesso, se mi faceva dormire, cose così, però io, la sera, la prendo sempre, proprio come routine, o questa, o quella digestiva, e, e via dicendo, e, comunque, ve la consiglio, questa qua, l'avevo trovata lì, dall'in offerta, poi, finito, questi bastoncini qua, di incensi, della casa dello Saromas, alla lavanda, questi qui, buoni, 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 però, devo dire che, a mio amore, davano, nausea, la sensazione proprio di nausea, stava veramente male, quando lo usavo, lo mettevo solo quando, lui era a lavoro, poi, finito, già il detergente, oh, c'è ancora una, vedete che cola un po' giù, detergente viso, dell'omia, all'oe vera, idratante, equilibrante, molto, molto buono, mannaggia, vabbè, insomma, veramente, veramente, valido questo detergente viso, costa poco, c'è degli ingredienti, ottimi, lo trovate, nella grande distribuzione, questo qui, io ve lo consiglio, veramente, veramente, valido, non tirava la pelle, in confronto a quello di Avon, non tirava la pelle, non seccava, non mi ha dato problemi, di irritazione, brufoletti, anzi, già vi giuro, non mi sono mai trovata così bene, con un detergente viso, low post, veramente, veramente, valido, io questo ve lo consiglio, naturale, pazzesco, c'è gli ingredienti, comunque, veramente fantastici, poi, finito, questo, 3 in 1, dell'antica erboristeria, balsamo, maschera, trattamento nutriente, latte di mandorle, bacche di acai, ok, non lo so, capelli secchi e sfibrati, allora, come maschera, no, come balsamo, mi, un po' troppo pesante, come leave-in, lo usavo come leave-in, ottimo, pazzesco, mi lasciava dei capelli, mossi con dei boccoli, veramente fantastici, questo qui, come leave-in, ve lo straconsiglio, poi, allora, allora, ottimo che mi si sta attormentando la gamba, finito questo scrub, della Vagheggi, balance, detergente scrub, non mi è piaciuto per niente, mi seccava tantissimo la pelle, e, e non mi è piaciuto, per niente, per niente, per niente, proprio, no, seccava tantissimo la pelle, aveva questi granellini di scrub, molto, grossi, che andavano a direttare la pelle, non lo so, perché comunque, questi ne ho provati due o tre, e, va a periodi, ma, oh, la mia pelle era un po', così, così, questo, questo periodo, ma, questo proprio, no ragazza, ha fatto una fatica a terminarlo, vi giuro che a volte lo usavo anche sul corpo, per finire lo più impossibile, non so se anche voi fate così, ma io con i prodotti, che non voglio buttarli, ma, voglio dargli, un attimo, quell'opportunità di essere usati, li uso sul corpo, come sapone mani, così via, finito, il, il concentrato illuminante, white moon di bagage, questo qua era il secondo, se non erro, sì, è buono, adesso li ho finiti tutti, comunque, questo qui era, veramente, veramente, valido, per il costo, non so se consigliarvelo, comunque, io lo usavo come crema, crema notte, ma non mi dava, problemi, poi, finita, questa, non è una crema, un latte abbronzante, SPF 30, ad alta protezione di bagage, questo qui, appunto, il latte solare, amo i corali, quindi rispetto all'ambiente marino, allora, resistente all'acqua, aveva, diciamo, una consistenza, molto, molto fluida, il getto qua era usceno, perché proprio, schizzava dappertutto, lo mettavate qua, e esplodeva dappertutto, però, diciamo che sulla pelle, si andava ad assorbire subito, quindi, ve lo consiglio, per quello, costicchia, ma magari, quando lo trovate in offerta, fateci un pensierino, poi, finita, il grano contorno occhi, di Kiehl's, finita proprio del tutto, questa qua, sarà la seconda, la terza, non lo so, nemmeno io, ho perso il conto, Creamy Eye Treatment, con avocado, 14 ml, vabbè, comunque, questa qui, è veramente, veramente, valida, e, ve la straconsiglio, costa, perché tipo, questa qua da 14 ml, viene sui, 32 euro, 33, e quella più grande, viene sui, 40 o 50, non mi ricordo, comunque, la trovate da Sephora, Douglas, Douglas, Pinalli, un po' dappertutto, sì, mi è ritornato il mal di gola, infatti, faccio presso, perché non mi sento più, più la gola, ok, ragazzi, scusate, ma mi sono dovuta, un ottimo sistemare, perché non mi sentivo più le gambe, poi, un mega flop, ragazze, la candela, di puro bio balance, è un mega, mega flop, comunque, si sentite dei rumori in sottofondo, è l'asciugatrice, allora, ragazze, profumo buono, ma, non lo so, si è consumato solo qui al centro, o forse perché la temperatura era troppo fredda, non lo so, ma tutta sta candela qui, è sprecata, cioè, adesso io magari la andrò a prendere, e cercherò di ridare un'altra vita, però, di per sé, è sprecata, ma guardate qui, ma tutta questa, non lo so, ma proprio, deluso tantissimo, c'è tutta, tutta candela così sprecata, ha fatto solo un cerchio qua, e si è consumata tutta, infatti qua proprio lo stoppino, addio, ma tutta questa, cioè, queste ore ci saranno state almeno altre 2-3 ore di bruciatura, niente ragazzi, vi giuro, non mi ha fatto neanche una settimana, zero, vediamo quanto dice, poi mi ha durato la candela, ma, non, ma proprio deluso tantissimo, ma tanto, 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 no, non l'ho scritto, magari nella scatola, quando avevo fatto lo spacchettamento, ma adesso non mi ricordo, comunque, vabbè, adesso vedremo cosa farci, allora, finito la, la maschera di Iepoda, la Citox, con vitamina C, e Yusa Fruit, non lo so, Made in Korea, allora, questa mascherina qui, era quella gialla, allora ragazzi, io non lo so, perché non lo so, però, per mia esperienza personale, ho provato i prodotti Iepoda, ho provato la maschera, ho provato la mousse, ho provato la crema giorno, il burro struccante, per quello che costano, perché un kit, ti può arrivare anche a 120 euro, giù di lì, se non metti lo sconto, poi lo baghi 60 euro, quindi, già lì, marketing, a go go, e, io sinceramente, non noto, tutta sta, cosa meravigliosa, mi dispiace, andrò forse controcorrente, perché tutti, elogiano questi prodotti, però, è bello essere, anche un po', un po' fuori corrente, però, per mia esperienza personale, io non mi sono trovata bene, per il prezzo, che hanno i prodotti, io non ve li consiglio, cioè, ma trovate cose, che costano meno, e sono, dieci volte meglio, almeno per me, che poi, magari, non voglio, fare polemiche, robe varie, però, io, pagare questa maschera qua, quanto costa, 30, 40 euro, adesso non mi ricordo nemmeno, anche di più, secondo me, vi veniva con un pennellino, il pennellino era bellino, carino, ce l'ho ancora là, ma, a parte che mi seccava tantissimo la pelle, me l'andava ad irritare, l'ho tenuta su, dieci minuti, l'ho tenuta su 5 minuti, 15, 20, un po' andavo, a mia esigenza, qua, dice di tenerla 15 minuti, una, due volte a settimana, già farla una volta a settimana, la mia pelle andava in tilt, e, no, mi, cioè, mi irritava, proprio, proprio la pelle, qua, anche in queste zone qua, delle guance, ok, io ho anche la pelle sensibile, però, ho la pelle mista, non secca, e vi giuro, mi dava proprio fastidio la pelle, me la sentivo tirare, me la sentivo sensibilizzata, mi faceva poi, quando andavo a togliere, questo scrub, no, forse per me è troppo, troppo aggressiva, e io, non ve la consiglio, insomma, poi, finito, profumo di Armani, acqua di gioia, 100 ml, questo qua sarà il quinto, che finisco, quarto o quinto, è stato il mio primo, primo profumo, e adesso mi ha stancato, va bene, è buono e tutto, però, adesso risentirlo, no, basta, fa parte del, del passato, insomma, non fa parte più dei miei gusti personali di profumo, è buono, è fresco, però, no, non, non dice più Angie, e, e niente, comunque, questo qui, se vi piacciono i profumi freschi, non pesanti, comunque, quel profumo acquoso, ve lo consiglio, perché dura tantissimo, dura veramente, veramente tanto, è buono, perché alla fine è un buon profumo, quando lo usavo tutti, 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 mi chiedevano che profumo, stessi indossando, e, peccato, perché comunque, non fa più parte dei miei profumi, per il gusto, c'ho, c'ho altri gusti adesso, però, magari, in futuro, non lo sa, potrei, no, però, per ora, no, basta, è storia, storia passata, poi, finita la candelina, felce azzura, cioè, guardate questa come si è sciolta, quella lì, no, va bene, che è naturale, è tutto, però, ragazze, c'ho tantissime candele naturali, perché quasi tutte quelle che uso io, sono naturali, e non sono così, non sono così, però, vabbè, è buona, allora, a dirvi la verità, faceva più profumo, quando era spenta, non accesa, cioè, poi, quando era accesa, non, non profumava tantissimo la stanza, non quanto, quando spenta, non quanto quando spenta, e, però, se l'ho trovata in offerta, è sempre una buona, buona candela, a felce azzurra, adesso profumo tantissimo, trovata da Lidl, quella lì, poi, finito, pacchetto di, dischetti struccanti, della, Nature Essence, questi qui, non so se si trovano dappertutto, li trovo in un supermercato, eh, dai miei genitori, insomma, questo, questo qui, che secondo me, c'è solo in Bernardo, perché non, non trovo, non, non, non ho mai visto, neanche a dirvi il vero, però, fatemi sapere, magari, se, lo trovate in qualche altro supermercato, poi, ho finito, finalmente, ecco, vedi che ne avevo due, un'altra di, questa acqua micellare qui, vedete, queste due qua, quindi, già detto, passime, finalmente le ho finite, ne ho più, poi, ho finito, l'ultimo, che l'altro, ve l'avevo fatto vedere, nei finiti di, settembre, credo, di ottobre, non mi ricordo, finalmente, l'ultimo, cleansing balm, Vagheggi, una roba, oscena, ma, oscena, non struccava, veramente, niente, ne costa, poi, ho finito, la Gillette, finalmente, dopo tantissimo tempo, gel da Barbie, lo usavo come, per la rasatura, insomma, buono, un gel, ma, faceva tantissima, tantissima schiuma densa, per, sì, per la salvia, va bene, va più che bene, dai, finito anche questo, poi, finito il profumino, Avon, today, tomorrow, always, the moment, non mi è piaciuto, per niente, l'ho usato per, in giro per la casa, anche perché sulla pelle, non durava, molto, molto dolce, poi, ragazze, mi vergogno tantissimo, ma, ho finito il Marc Jacobs, Velvet Noir, e non c'è più, non c'è veramente più, non lo producono più, comunque, questo mascara qui, mi piange il cuore, ma, niente, ragazzi, devo, devo dirgli addio, è stato uno dei miei mascara, più belli in assoluto, e non ve lo so neanche qua, tanto far vedere, perché comunque, non lo potete più comprare, nemmeno io, però, veramente, questo scovolino, poi, era fantastico, e, niente, addio, amore mio, basta, finito la sua vita, poi, è finito il Colourpop Liquid Liner, questo qui, ce l'ho, veramente, veramente, da tantissimo tempo, ce l'avevo da tantissimo tempo, insomma, adesso è finito, perché avevo fatto, un ordine da Colourpop, sul sito appunto, statunitense, avevo preso questo, avevo preso, dei blush, illuminanti, avevo preso un paio di cosine, e, secondo me, questo è un illuminante, mi sono rimasti, cioè, questo è mai finito, quindi, è rimasto un illuminante, e, veramente, è un ottimo eyeliner, con il pennellino, in, in feltro, non è in settole, è in feltro, vedete, scrive ancora, ma comunque, è troppo, troppo datato, e, e quindi, quindi lo butto, anche perché, dalle volte, il tratto non è super colorato, cioè, ormai è, è out, e, comunque, 8 euro, tipo, 8 dollari, insomma, 8 dollari, non mi ricordo, ma veramente, veramente consigliato, in settole, non mi sono mai trovata bene, con un eyeliner setto, è quanto quello, poi ho finito, la Maybelline, Color Sensational, nella tonalità, Dusty Rose, questa, matita per le labbra, non mi ricordo come si dice, non temperabile, ma, automatica, e, comunque, è finita, completamente, vedete, c'è proprio, vedete, qua, perché è sporco, però, qui dentro è proprio finita, del tutto, e, dietro ci aveva, comunque, il suo temperino, aveva, il suo temperino così, ma, una buona, buona matita labbra, poi, ho finito, ho finito, ho finito, ho gli ultimi prodottini, finalmente, me li metto qui, finito, l'Instant Anti Age, Borrador, 00 Ivory, il correttore di Maybelline, all'Instant Anti Age, quindi, il Cancella Età, con questa spugnetta, per me, era troppo, troppo chiaro, comunque, è veramente chiaro, anche per me, ma, è un buon correttore, veramente valido, lo riprenderò, nella colorazione, più scura, e, ve lo consiglio, non vi lasciava, quell'effetto, ehm, come dice, effetto mascherone, e, è veramente, veramente valido, scusate, delle volte sto zitta, mi trattengo, perché mi viene, tipo, da tossire, fortissimo, e non voglio, morire, in diretta, però, delle volte mi trattengo, perché, mi si blocca, proprio la voce, quindi, faccio così, e mangiò la saliva, e, comunque, questo, io ve lo consiglio, quando in offerta, soprattutto, poi, stessa cosa, è finito, l'Epic Ink Line, è finito, diciamo, che non, non scrive più, più tantissimo, non, non, comunque, vedete le setole, non so se si riesce a percepire, però, non erano più, più uniformi, non erano, era tutto, spelacchiato, insomma, non scriveva più, e, questo è, NYX Professional Makeup, Epic Ink Liner, vedete che mi sta andando via la voce, nella colorazione Black 01, questo qua è waterproof, pensate è waterproof, non lo sapevo, comunque, anche questo, un eyeliner in setole, veramente, veramente valido, uno, anche questo, uno dei migliori eyeliner, poi, butto la spugnetta, di Real Techniques, un'ottima, un'ottima spugnetta, comunque, basta, l'ho usata, più di sei mesi, e, insomma, era tutta rovinata, non si lavava neanche più bene, non andava via neanche più il colore, e, quindi, la butto ogni tanto, comunque, per igiene, va buttata, sempre, poi, finito, finalmente, l'anolips, una roba oscena, pure questo, non so perché è tanto, guardate come sono tutte le cose per tutto, perché è tanto decantato, ovunque, ma, sulle labbra, io non ve lo consiglio, sulle labbra, è una cosa terribile, mi lascia un effetto pastone, mi sento le labbra, proprio, K.O., quando lo metto, lo mettevo sulle mani, quando andavo a fare delle maschere, oppure sui piedi, poi mettevo dei calzini, e l'ho finito in questo modo qui, comunque, non lo riprenderò, grazie a Dio, è un regalo, non lo compro, non lo ricomprerò, e poi, per un prodotto per le unghine, per le unghine, per le unghie, ho finito questo acid, questo primer senza acido, di Libra Nails, il Pro Bond, non mi sono trovata bene, perché mi faceva sempre alzare, il semi permanente, e niente, direi di aver finito, sì, ragazze, spero che questa crellata, di prodotti finiti, vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti, se avete provato qualche prodottino, se magari voi vi trovate bene, con qualcosa, con cui non mi sono trovata bene, magari il contrario, niente, vi mando un grosso bacione, ci vediamo alla prossima, ciao!